Chiuso da oltre un anno per problemi di staticità, il sovrappasso ferroviario di San Vito sarà abbattuto entro poche settimane. Lasciato da mesi in uno stato di forte degrado, ripetuto obiettivo di Vandali e Reuters, il passaggio pedonale che collega via Gramsci e via Piave verrà smantellato a metà giugno. Abbiamo preso un'occasione di manutenzione sulla linea ferroviaria da parte di RFI e andremo a smontare la passarella esistente, lo faremo noi affidando i lavori a una ditta. E poi dovremo concordare con loro un altro momento, sempre di fermolinea o per manutenzioni o specifico per la ricostruzione e quindi andremo ad appaltare i lavori di ricostruzione. Per ora dunque il sovrappasso verrà abbattuto, restano invece da stabilire i tempi della sua ricostruzione, come le modalità. Il progetto non è ancora definito al 100%, ci sono alcuni dettagli che sono in fase di definizione, appena pronto sarà discusso col quartiere e con i vari soggetti interessati. Tra le questioni aperte resta quella di realizzare un'opera priva di barriere architettoniche, soluzione per la quale servirebbero 140.000 euro in più rispetto ai 100.000 già a bilancio per il mero rifacimento del sovrappasso attuale. Questo è l'obiettivo, non è semplice, nel senso che quell'area è un'area che ha anche delle proprietà private vicino, quindi le soluzioni tecniche impattano con questa difficoltà. Nel frattempo poi si vedrà anche di trovare il modo per rendere il passaggio tra le due parti della città comunque accessibile ai disabili, non necessariamente con le passerelle, insomma quindi vedremo se ci sono anche altre modalità. Grazie. Grazie.